Sì, il dato per cui vi ho chiesto di evidenziare questa circostanza è legato al fatto che tutti sappiamo che il Sindaco in queste ore ha denunciato pubblicamente sui media, ovunque, ha avvisato la cittadinanza formiana e tutti, che l'ASL di Latina, mettendo la nostra città in contrasto con l'ASL, avrebbe omesso di comunicare a lei in qualità di Sindaco la positività di una signora al Covid-19, circostanza che sarebbe stata sicuramente rilevante che però non mi ha convinto, perché la sensazione oramai è che siccome Formia va nel disastro, il Sindaco inventi ogni giorno un tema per distogliere l'attenzione e cercare di fare del populismo becero che non fa altro che portare sempre più al massacro questa città. Allora, siccome non mi aveva convinto, perché essendo io consigliere provinciale, noi, il nostro Presidente che ci aggiorna a noi consiglieri, quotidianamente riceviamo i report dall'ASL puntualissimi, dove in tutti i comuni c'è persino una piattaforma dedicata a ogni Sindaco che può accedere e vedere l'informazione della tua città, comunica le eventuali nuove positività in una maniera assai precisa e metodica. Ora che il Sindaco di Formia abbia fatto questa uscita così, roboante contro l'ASL, mi ha incuriosito e siccome ho il difetto di non credere alle chiacchiere, ma mi piace a tenermi ai fatti, ho mandato una PEC ieri al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, questa è la PEC che le ho inviate ieri, e ho chiesto, in virtù delle lamentere del Sindaco del Comune di Formia circa la mancanza di comunicazione da parte di questo Dipartimento ASL, chiedevo la necessità di fare chiarezza in qualità di consigliere comunale e di consigliere provinciale della provincia di Latina su un tema troppo importante per essere lasciato al caso o alle chiacchiere. Ebbene, oggi mi ha risposto l'ASL, questa è la comunicazione del Sindaco, vedete Paola Villa, fatta urbi e torbi sui buchi neri, le mancanze della ASL, le omesse comunicazioni su un tema così importante come la sanità pubblica, ebbene oggi ricevo la PEC dall'ASL di Latina, questa PEC dall'ASL che mi dice testualmente il protocollo ASL Latina registro ufficiale è repertato che in data 16 maggio 2020 in concomitanza con l'essito dei tamponi comunicato dal laboratorio analisi è stato inserito sulla piattaforma in visione a tutti i sindaci della provincia, ciascuno per quanto di competenza l'essito del tampone riferito al Comune di Formia dell'assistito di che trattasi quindi il 16 maggio si fanno i tamponi, il 16 maggio arrivano i risultati, il 16 maggio l'ASL inserisce sulla piattaforma del Sindaco di Formia la storia e la positività della cittadina di Formia improvvisamente il 17 maggio il Sindaco fa esplodere una bomba atomica contro l'ASL di Latina dicendo che a Formia non hanno mai avvisato nessuno ma che hanno avvisato solo la stampa Ora, Sindaco, queste bugie a cosa servono? A distogliere l'attenzione? Utilizzare queste falsità per attaccare addirittura una ASL e continuare a mettere questa città alla berlina a cosa serve? Queste bugie hanno le gabbe corte, non funzionano con chi non si beve le chiacchiere, non funzionano Qui c'è una nota ASL ufficiale, l'hanno avvisata immediatamente dopo i tamponi Ora ho, la ASL ha scritto un falso in questa PEC e allora lei deve andare avanti e deve denunciare la ASL perché mi ha mandato una PEC falsa oppure denuncia a me perché ho creato una PEC falsa oppure lei adesso deve chiedere scusa alla ASL di Latina, al Dipartimento di Prevenzione e a tutti i cittadini formiani perché ci sta mettendo continuamente e ripetutamente alla gogna e alla berlina Grazie